Dai banchi di scuola ad uno sguardo verso opportunità di lavoro nel mondo della fotografia, facendosi le ossa con percorso formativo professionale sul campo. E questa è la prospettiva di una nuova borsa di studio destinata agli studenti di quarta superiore del liceo artistico Mengaroni, nata da un'idea di Rossano Ronci, fotografo pesarese con esperienza di storytelling a livello internazionale. Borsa di studio di 5.000 euro che sarà sostenuta dal finanziamento dell'imprenditore Lorenzo Pizza. La scuola collabora con me con l'alteranza scuola lavoro e mi è venuto in mente appunto di provare a realizzare qualcosa di concreto e dare la possibilità ai ragazzi di seguire questo corso di nove mesi, praticamente al di fuori della scuola, questo progetto, dove possono tranquillamente avere l'idea delle dinamiche lavorative al di fuori della scuola e quindi la borsa è stata istituita e l'ha finanziata un imprenditore qua di Pesaro, Lorenzo Pizza, che penso che in tanti conoscano. Due studenti fra undici dell'indirizzo audiovisivi beneficeranno dunque della borsa di studio con nove mesi di lavoro al fianco di Ronci. Un lavoro già intrapreso dalla studentessa di quinta superiore di grafica pubblicitaria Virginia Druda che nell'aula magna del liceo ha presentato la scelta del suo progetto fotografico dedicato al mondo Ultras, progetto in bianconero che presto diventerà un libro dedicato alla storia del tifo VL. Tutto quello che viene realizzato all'interno della scuola, i progetti all'interno della scuola hanno delle tempistiche, gli stessi progetti al di fuori devono essere realizzati in tempi molto più rapidi, quindi già solamente questo tipo di meccanismo può far capire ai ragazzi come approcciarsi e come lavorare con un professionista. Quindi prevalentemente è stato fatto per questo motivo perché l'alternanza scuola-lavoro sicuramente è una cosa utile, poi confrontandomi con i professori ho pensato a questa cosa per dare uno stimolo in più ai ragazzi e anche per me, perché comunque è una crescita anche personale avere a che fare con i ragazzi in maniera ancora più produttiva e utile.